Avrebbe in più occasioni malmenato e sbeffeggiato un coetaneo pretendendo da lui somme di denaro per poi da ultimo rapinarlo del cellulare appropriandosi e diffondendo illegitamente immagini private, sensualmente esplicite e chiedendo per la restituzione il pagamento di un riscatto. Un minore è stato arrestato dal personale della squadra mobile di Cosenza in esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misura cautelare con collocazione presso un istituto penitenziario minonire emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Catanzaro su richiesta di quella procura. Il giovane è accusato di rapina, lesioni, estorsione, detenzione abusiva di armi, divulgazioni illecite di immagini o video sessualmente espliciti e poi tutti i reati commessi tra il 13 agosto 2020 e il 25 settembre 2021. Le indagini coordinate dal procuratore dei minorenni di Catanzaro hanno avuto origine dalla denuncia della madre di un ragazzino che riferiva alla polizia circostanze di cui era stato vittima il figlio. In particolare, dopo essersi appropriato del cellulare del minore vessato, l'indagato aveva estrapolato delle immagini personali divulgandole indebitamente, un tipico caso di revenge porn a danno ovviamente di un coetaneo. Gli ulteriori accertamenti avevano portato a verificare che il giovanissimo indagato aveva agito con analogo modus operandi anche nei confronti di un altro minore, manifestando una particolare indole di sopraffazione e di prepotenza nei confronti di coetanei e di ragazzi di età preadolescenziale. Le modalità utilizzate e la ricorrenza di elementi di serietà della condotta del ragazzino sono adesso al vaglio degli investigatori, allo scopo di approfondire tutti gli aspetti e i contesti correlati alla vicenda. Il minore è stato portato nell'Istituto Penale Minorile di Cadanzaro.